Musica Un intenso lavoro di progettazione e collaborazione stretta e fattiva con le scuole è quello che si sta portando avanti a Sarno con la consulta scolastica un percorso avviato da mesi che inizia a dare frutti l'obiettivo principale è la crescita culturale e formativa degli studenti ed insieme la riscoperta territoriale, la valorizzazione delle risorse e dei beni cittadini ed anche la sensibilizzazione su argomenti inerenti all'ambiente a parlarne è il consigliere comunale Cleopatra Chibomba è stato avviato un bel percorso di collaborazione tra l'ente e le scuole proprio grazie alla consulta scolastica state facendo un bel cammino insieme e tante sono le novità Sì, questo è vero perché penso per la prima volta e meno in quanto so il Comune sta lavorando veramente in stretta collaborazione con la consulta scolastica di organizzare tutte le attività territoriale in particolare in questi mesi abbiamo realizzato un progetto insieme all'associazione ADDA, un'associazione volontaria che ha lavorato molto di dare dei volontari che vanno nelle scuole scuola media e scuola elementare di dare un'assistenza materiale ma tutto gratuito poi a questo abbiamo ovviamente visto giusto anche di dare più supporto aggiungendo alcune delle persone che hanno soffritto delle voucher su diciamo comunali quella che ovviamente è i soldi del metà soldi che noi abbiamo diciamo deciso di non prendere sulle commissioni di anche dare questo tipo di supporto materiale quindi mettendo insieme le due diciamo realtà i dirigenti si sono ritenuti molto soddisfatti delle assistenze che stanno ricevendo